Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Per traffico intenso, code tra Firenze Scandicce e Firenze Imprunita e in uscita a Firenze Imprunita. Sulla A1 in direzione Roma, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla FIPILI per lavori possibili disagi tra Empoli Est e Montelupo, è chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze Imprunita. Sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della galleria del signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!